Giornata di sensibilizzazione sul mare oscuro, la depressione, all'Istituto Giacomo Leopardi di Torre del Greco. Esperti a confronto questa mattina con gli alunni nella Sala Teatro della Scuola, un seminario organizzato nell'ambito delle iniziative di promozione del benessere psicologico. Dopo i saluti della dirigente Olimpia Tedeschi sono intervenuti lo psichiatra Maurilio Tavormina e la psicologa Maria Giorno. L'evento si è aperto con una rappresentazione teatrale a tema e non sono mancati anche momenti musicali e dedicati alla poesia con il dottor Giovanni Damiano. Sappiamo che tutto il mese di ottobre è dedicato proprio alla lotta, alla depressione e alla diffusione di quelli che sono le informazioni base per poter sconfiggere, riconoscere e contrastare questa patologia. Oggi abbiamo voluto fare questo seminario così bello, interessante, invitando i genitori rappresentanti di classe e i ragazzini più grandi della scuola secondaria di primo grado, i ragazzi di terza media. Ha partecipato a questo convegno il dottor Tavormina, psichiatra, che ha affrontato questa patologia da un punto di vista più tecnicamente medico specifico. Poi c'è stato un intervento illuminante della dottoressa psicologa Maria Giorno, che si occupa del nostro sportello ascolto, che ha dato una serie di consigli ai ragazzi, come riconoscere i sintomi a partire dalla tristezza, che può non sempre essere depressione, e come chiedere aiuto per poter affrontare questo male oscuro che è insidioso e per evitare che possa degenerare. E poi ci sono stati dei momenti molto toccanti, un momento musicale, la professoressa Pisciano ha suonato dei pezzi di Beethoven e sul sottofondo musicale, e di Schumann. Sul sottofondo musicale il dottor Damiano ha declamato delle poesie sulla depressione. E poi un momento animato dai ragazzi, con un ballo, che metaforicamente rappresenta il momento del male oscuro e della liberazione, e l'inno alla gioia con i flauti, suonato dal nostro gruppo di giovani musicisti. Quindi sono molto contenta di questo evento. È stato utile nel informare, sensibilizzare e seminare pensieri, riflessioni su quello che è la depressione nella preadolescenza. Abbiamo parlato di segni e dei sintomi che risultano essere alcuni molto diversi da quelli degli adulti, e di come genitori, insegnanti e gli stessi ragazzi possono essere da supporto per il confronto e l'aiuto dei pari. Bisogna fare una prima distinzione tra quello che è un semplice malessere del tono dell'umore, quale la tristezza, o il vero e proprio la malinconia, che è fra l'altro un sintomo, l'umore depresso, un sintomo solo della depressione, che invece è una malattia mentale. Ci devono essere associati altri sintomi per fare la diagnosi di depressione, e di conseguenza è piuttosto complessa. Comprendere dove è la nostra sofferenza, quali sono le cause e come fare per risolverla, è un primo passo per avere cura di noi stessi e affrontare la malinconia. Da qui la necessità di dare una corretta informazione, in modo particolare per fare prevenzione nelle fasce giovanili, nella scola risca, gli insegnanti e in tutti i nostri.